Mettiamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere e partiamo, partiamo, vedi che siamo, partiti già. Sono Gino Garibaldi, il nuovo presidente dell'associazione Gli Amici di Civezza, siamo nati come associazione l'8 di marzo di quest'anno e cercheremo di fare un lavoro al fine di valorizzare le nostre valli, i nostri borghi e quindi nell'impegno di questo lavoro abbiamo pensato a una manifestazione che possa descrivere le nostre valli visivamente e quindi una camminata che si chiamerà Spasso col Gusto e verrà effettuata il 19 di giugno, domenica 19 giugno, una camminata per tutti, una camminata inogastronomica dove ci sarà la partenza da Civezza con la colazione, si arriverà da un vecchio mulino, ci sarà l'antipasto con gli affettati, si consumerà il primo piatto a Torre Papponi per poi continuare col secondo piatto a Boscomare, si riscenderà diciamo verso il fiume per i formaggi e si rende la Civezza per il dolce e chiuderanno la giornata i compagni di viaggio che faranno un concerto gratuito. Questa camminata è stata studiata perché possa essere effettuata da tutti, da grandi, da bambini, la non è faticosa, molto panoramica, si passerà in vigneti, ulivetti secolari, carruggi, tipici carruggi liguri e ci sarà anche una navetta a disposizione tra Boscomare e Torre Papponi che continuerà a fare la spola proprio perché se qualcuno o qualche bambino fosse più stanco ne può usufruire e all'arrivo ci sarà anche l'estrazione di un orologio di pregio offerto dall'Orologeria Dalmasso tra tutti i partecipanti. La quota di iscrizione sarà di 12 euro, quindi un prezzo popolare per passare una giornata bucolica tutti insieme con la famiglia, con gli amici, spero che sia una giornata divertente. Devo fare una nota, una nota di merito alle altre associazioni, i siti sul nostro territorio che sono la GS Torre Papponi e gli amici di Boscomare che effettivamente con il loro sudore, con il loro lavoro hanno permesso di celebrare questo avvenimento. Io vi auguro a tutti un buon divertimento, il meteo finalmente ha previsto una giornata favolosa, speriamo che sia così, abbiamo cercato di fare un numero chiuso proprio per accontentarvi tutti perché noi riteniamo che è meglio accontentare che non fare un grande numero e non accontentare nessuno perché questa camminata sarà sviluppata e migliorata negli anni a venire e di conseguenza voglio che tutti voi rimaniate contenti. Quindi io vi auguro veramente un buon divertimento e speriamo di vederci domenica qua a Civezza. Grazie, ciao! Grazie a tutti Grazie a tutti